Dal 4 all'8 settembre va in scena a Porta Romana Teramo Street Food, un evento che nasce grazie alla collaborazione di alcuni locali del quartiere di Porta Romana al fine di vivacizzare e riscoprire il corso, luogo dove in epoca antica si apriva una delle porte di Teramo che immetteva sulla via che conduceva a Roma. Oltre al buon cibo curato dai migliori operatori del settore enogastronomico, musica, spettacolo e cultura saranno gli ingredienti principali che andranno ad arricchire Teramo Street Food. Non è una sagra ma è veramente l'esibizione, oltretutto tornando un po' nell'antico, presentando piatti storici, è un evento di successo, è un evento di qualità, è un evento che invitiamo a partecipare perché poi si fa a Porta Romana che è un luogo deputato alla ristorazione e alla gastronomia, lo è storicamente. Siamo ben felici di aver messo insieme tutti questi operatori per dare sicuramente più importanza all'evento e sicuramente più qualità. Lo street food a differenza di una sagra sono tutte postazioni dove con poco si prendono panini o primi piatti e la particolarità è nel muoversi, chiaramente ci saranno dei punti di appoggi, questo a mio parere permetterà anche un certo che di aggregazione, di rincontrarsi con la gente e soprattutto le serate saranno movimentate da gruppi musicali, da artisti di strada, da artisti, da scultori, per cui è un evento da vivere. A partecipare a questo evento siamo io dalla cantina di Porta Romana, il cantinone, la cantinetta pizzeria di Piazza Verdi, il Gran d'Italia, il Capolinia, ma soprattutto abbiamo anche la zona pesce che sarà curata da Alessandro Di Antonis del ristorante Cipria di Mare. Chiaramente il tutto accompagnato da buona birra artigianale che è anche questa la moda del momento e soprattutto ci sarà la partecipazione del Liverpool Pub.